Un prodotto che nasce per ridisegnare lo spazio all'interno della casa, per poter rivedere quelli che sono i canoni tradizionali su cui si è costruito il living e partire con un foglio bianco per poter ridisegnare lo spazio. Questo è da dove si nasce, poi come si è arrivati al prodotto è frutto di tanto studio. Perché decidere di presentarlo proprio qui al fuoristalone di Milano? Noi veniamo dal C.S. di Las Vegas che è la fiera dell'elettronica di consumo, per cui lì si è presentato il prodotto nel suo ambiente. Però proprio perché è un prodotto che nasce su dei criteri di design e su una definizione di living diverso, non c'era uno scenario migliore che il salone del mobile, la Milano Design Week, proprio per testimoniare un passo epocale in avanti sul design dell'home entertainment.